Sono venuto a ascoltare gli strumenti con i veri protagonisti questa serata, con il maestro Cadaldo Perri, di cui ha già detto l'assessore Corigliano, a cui per ora è aggiungere un elemento, l'elemento appunto che abbiamo già capito che sarà in squadra per l'organizzazione del festival, perché io qui devo fare anche campagne acquisti per cercare di sviluppare tutto il progetto. Quindi Cadaldo Perri mi sembra proprio un buon elemento della mia squadra per il festival della chitarra battente, visto che ne ha ideato uno come vice sindaco a Corigliano un festival... Cariati, scusa, è arruolato, è arruolato, così mi darà informazioni e via dicendo, perché appunto ha ideato questo festival itinerante della chitarra battente, quindi mi dispiace, Cadaldo, ma sei già dentro. Bene, sentiremo appunto Cadaldo Perri e poi il maestro Francesco D'Andrea, violinista, docente nel Conservatorio di Cosenza, con il suo allievo Alessandro Acri. Dopodiché ci dirigeremo verso questo primisi. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e mi raccomando partecipate attivi perché non vi molliamo, anzi posso dirlo non vi mollo, grazie mille ancora. Buonasera, grazie per questo invito molto gradito, che mi ha fatto il capitato che è stata lanciata nella straordinaria pagina di storia culturale della nostra provincia, della nostra regione, del nostro subitalia penso. Io darò il mio modesto contributo con la parola e con la musica, con la parola prima leggendo due pagine del mio libro, poi detto, in cui in questo libro racconto, fra le altre cose, oltre alla mia esperienza di medico di famiglia, di molti aneddoti di cultura popolare, ma racconto anche in due pagine di questo mio libro l'incontro con il grande e divino maestro Dutaio del Bonest e poi lo passerò alla chitarra battente. La chitarra battente l'ho scoperta tanti anni dopo, l'avevo sentita nei ricordi sfogati della mia infanzia, dopo tanti anni l'ho risentita a casa del collega medico, mi aveva invitato a toccarla e a provarla, pochi accordi sono abbastati, pochi suoni, per ficcarsi indelebilmente nella mia mente. Era una preziosissima chitarra Nicola del Bodice di Bisignano, mai strumento più bello avevo visto in vita mia, mai suono più ammaliante avevo ascoltato fino ad allora. Passarono alcuni anni che quel suono ritornava sempre dalla mia memoria, non si era mai perso le meandri dei cordi inutili. Stava l'ira, l'inchiato in un'angolina della mente, armato di impazienza e fiducia, come un cane fedele che sa aspettare soprattutto i padroni distratti. Una sottile malattia quel suono, che si ripresentava cicchicamente fino a quando non decise di andare a fare visita a uno degli ottimi grandi mutai della famiglia del Bodice. Una porta verde Speranza, in fondo alla giurecca di Bisignano, si spalancò per regalare un tibilo e raro sorriso di maestro Vincenzo del Bodice. Uomo di poche parole, sagge, essenziale, eloquente e dirette come lo sguardo dei suoi occhi scuri, fieri e vivacissimi. Per prima cosa mi invitò a sedermi vicino al bracere di Carbonella, unica difesa contro il freddo di dicembre. Poi mi servì un bicchiere del suo vino rosso rubino, limpido e stiziato di sangue. Aveva fame di essere un po' orso e a questo ero preparato. infatti alla prima dissertazione dotta ed erudita sulla musica, sull'arte e sulla politica seguì un lungo imparazzante silenzio. Mi scrutavo con diffidenza, come facevo con tutti coloro che gli si presentavano davanti per la prima volta. Voleva sincerarsi che l'interlocutore di turno amasse veramente la musica e avesse coscienza piena del valore e della qualità di una chitarra del bonus. Secondo lui aver una chitarra della sua famiglia non doveva essere un semplice puritimuro. Molti aspiranti a Firenze, che non hanno superato questa specie di testo selettivo, sono rimasti aspiranti a vita. Ogni sua parola aveva il prisma della sincerità e della preziosità, saggenza e dignità nei suoi gesti e la coscienza di essere depositario di un sapere antico, di assoluta eccellenza e bellezza. Lui e i suoi antenati hanno puntato tutta la vita investendo sui sogni, sul bello, sull'arte, in una terra così povera, matrigna, distratta e poco propensa ai voli dell'anima come la nostra. Eroi del bello, pensava mentre osservava i ritrati degli antenati del bonus e ascoltava le ultime battute della rara dissertazione di Maestro Vincenzo sulla musica. Mo' da noi va di modo un jazz, ma non l'hanno capito che un jazz da Calabria è a Trandello. A Catarra è una cosa seria. La scelta del legno, la stagionatura, le golle, perfino a scelti una corda è una cosa importante. Perché uno con una corda fa pure un beccato. Ritornavo spesso da lui e gli chiedero a che punto fossi lavori della mia battente. Qualche volta era piacere trovarci anche Francesco, un collega psichiatra pazzo per mangiare la battente, meglio conosciuto come Ciccio Battente. In quel periodo veniva quasi due volte al mese da Roma per fare la corte al divino artigiano. Dopo estenuanti rimpidi, Maestro Vincenzo, giustificato una volta dal troppo caldo d'estate, una volta dal troppo freddo d'inverno, finalmente una sera di buona lena gli diede una concreta speranza. con riserva. T'ha a fazza che t'ha, t'ha a fazza. Si sto bene t'ha a fazza, se non ti freghi. Anche io quella sera ero stato concedato con una promessa. T'ha a fazza che t'ha. Dottor, t'ha a fazza, tu mi dobbiamo preoccupare. Questa semplice, questa duplice sentenza positiva riuscì ad accendere anche gli occhi di Alessi di Rosalba, che faceva un perdistato di luteria presso il padre Costantino ed ingegniaccio di Zio Vincenzo. Fece il segno della valentonia, scuotendo riccio i malissimi sul viso scuro e ben disegnato, illuminato da uno sbagliante solare sorriso di condivisione. Dopo una lunga attesa di due anni, finalmente ebbi la mia prima ammita, radattente. Un gioco di colori, strie scure oro, mogone acero, palisantro, abete rosso della sila, una rosa del vento di legno ricca di freggio a coprire la ruga, lampi di madreperla, contorno del rosore e il fondo bombato con doghi di legno piegato al vapore, come il corpo di una donna in dolce altezza. Dal disegno armonioso, perfetto. La toccai, la carezzai e timidamente cominciai a suonarla seduta attorno al palacere di Mastro Vincenzo. Sentivo che quello straordinario e unico strumento mi stava aspettando da tempo. Da quella chitarra usciva molto più di quanto io facessi o di quando la mia tecnica pentasse. Uno strumento generoso, così l'ha subito la prima volta. Nella sua cassa franciuta risuonava la risacca del mare, il suo eterno ritorno. Come una grande conchiglia, sapeva regalare onde sonore infinite, ossessive e circolare, che producevano un effetto trans, quasi fino all'anestesia di ogni pensiero, di ogni dolore. Dopo averne offerto un altro buon bicchiere di rosso, Mastro Vincenzo si presentò con un panno di sboffa e cominciò ad abboggiare la chitarra. Dottorale da riposta. La sorella Marietta, a quelle parole, si affacciò dalla stanza con una faccia addolorata e perplessa, ma non ce l'ha da una chitarra. E Mastro Vincenzo, un dottorale, non può sonare. Poi ci abbracciamo e prima di sparire nel piccolo della giudecca, vi urlò con voce supplichevole. Mi raccomando, ogni tanto portatevi in la chitarra. Grazie mille ogni tanto la chitarra. Grazie mille ogni tanto la chitarra. Grazie mille ogni tanto la chitarra.